Possono essere i tuoi amici. Che vuoi dire? Sono i miei amici, li ho fatti io. So che li hai fatti tu, ma... Mamma mi ha detto di farmi degli amici, e io l'ho fatto. Non è così che ci si fa degli amici. Dì a tua madre... Non posso! Lei è morta. Mamma è morta. Si è unita ai pirati. Diceva che portava a casa così tante dracme che potevamo farci il bagno. Ma un giorno è tornata Mistios. La sua veste bianca preferita era tutta rossa. E mi ha detto di prendermi cura di me e di farmi degli amici. Ma allora ci ho pensato su un sacco e mi sono fatta degli amici d'argilla. Ho sbagliato qualcosa. Mamma non è arrabbiata con me, vero? Non volevo. Non volevo! No, piccolo, no. Sei stata brava. La tua mamma sarebbe fiera di te. Esistono amici di tutti i tipi. Io ho un'aquila, che è una mia cara amica. Wow, davvero! Che bello! Tieni. Ecco i doni per i tuoi amici, come promesso. Perché non glieli dai? Li apprezzeranno di certo. Grazie, Mistios. Sei grande. Lo faccio subito. Mi spiace, piccola. Non ce l'ho fatta a spezzarti il cuore, anche se ti avrebbe fatto bene.